Onore ai nostri ragazzi, non abbiamo conti da regolare, ve l'avevo detto che era la fake Verona, ero tranquillo e sereno, tranquillo e sereno, proprio ho visto gufate, io penso che anche gufare si debba gufare con un pizzichino di eleganza. Com'era la storia? Adesso il ciolito Simeone deve ridarci quello che ci ha tolto il padre il 5 maggio. Andiamo avanti, andiamo avanti e me l'aveva detto nell'intervallo Luca Serafini che sarebbe finita 3-1, Milan TV aveva a Verona Maurizio Ferrari come inviato, Maurizio Ferrari che era Lazio Milan, Maurizio Ferrari che era Napoli Milan, Maurizio Ferrari e eh oh oh. Ragazzi, 3-1, abbiamo giocato una partita tosta, una partita con delle varianti tattiche perché io ho visto fare la mezzala nel primo tempo, la mezzala offensiva a Ternandez. Ternandez solitamente nelle sue partite arrivava a occupare la posizione centrale partendo di corsa dalla difesa, invece questa volta era stabilizzato mezzala e non ha creato molti pericoli ma era un tema diverso, un tema che il Verona era preparato ad affrontare. Poi abbiamo giocato con due punte, Girù e Tonali. Abbiamo giocato con due punte ragazzi, Girù e Tonali. Tonali ha avuto il gol annullato, ha fatto doppietta e aveva messo Calabria con il suo assi solo davanti al portiere. Forse c'è mancato un po' Tonali nella copertura sul gol del Verona, ma là davanti ci ha dato in abbondanza rispetto magari alla mancata copertura sul gol del Verona. Quindi Stefano Pioli ha coraggio, Stefano Pioli innova, Stefano Pioli sorprende, Stefano Pioli va fuori dagli schemi, Stefano Pioli si inventa cose. Abbiamo a due giornate dalla fine, un punto in più dell'anno scorso. L'anno scorso abbiamo chiuso il 79, adesso siamo il 80, la lotta continua. Il Verona magari in qualche altra partita ha lasciato delle pratterie, qui con noi se l'è lottata tutta, noi preferiamo le cose così. Noi preferiamo che non ci sia niente di facile, preferiamo andarcele a lottare e a prendere le cose. C'era quello che diceva che dopo il 73-90 usciva il 22, no, hai sbagliato Cicci, è uscito il 31, fatto dal 3 e dall'1 e quindi spiace. Ragazzi dobbiamo tenere due, non è successo ancora niente, abbiamo una partita durissima con l'Atalanta domenica prossima, l'Atalanta oggi l'ho vista vincere alla grande a Spezia, quindi sarà durissima, prepariamoci ad una partita tosta e dura e poi vediamo cosa ci riserverà ancora questo campionato. Passare due giorni dietro non è stato semplice, ma questa è una squadra che potete parlargli del 73, potete parlargli del 90, potete parlargli del 66, potete parlargli di quello che volete, questa squadra tira dritto. Chi continua a cercare di evocare spettri e fantasmi, a fare un lavoro sporco in questo senso, vuol dire che non ha capito la natura di questa squadra, non mi sorprende che la natura di questa squadra non avrà capito. Leao oggi ha fatto una partita, Leao ragazzi oggi ha aperto le acque, ha diviso il mare, non voglio essere blasfemo, non voglio fare paragoni biblici, calcisticamente parlando ha devastato e arato quella fascia in maniera pazzesca. C'è ancora chi in Italia discute Leao, Leao in Europa vedono il calcio diversamente da noi, infatti in Europa fanno alta Champions League, noi no, e in Europa tutto quello che è Leao e i margini di miglioramento che è Leao li hanno capiti tutti. Leao oggi ha fatto una grande partita, è stato bravo Tonali a farsi trovare puntuale al momento giusto, l'appuntamento giusto, ma Leao è chiaro che ha reso tutto più facile con una serie di giocate incredibili. Abbiamo preso gol, era tanto che non lo prendevamo, adesso sono due gol presi nelle ultime nove parite di campionato, è stata una partita strana, ce l'avevamo in mano, avevamo avuto l'occasione di testa di Krunic deviata da Montipò, il gol annullato a Tonali di tanto così, Calabria solo davanti al portiere, parata di Montipò di piede, il tiro di Krunic all'incrocio e sembrava che avessimo in pugno la partita. Poi da lì abbiamo sbagliato 4-5 palloni sopra e il Verone è ripartito sempre, due tiri sull'esterno della rete, un tiro centrale di Simeone, fino al gol di Faraone. Lì mi sono sentito perso, ho sperato che andasse a finire a Roma con la Lazio, però abbiamo pareggiato subito, a me interessava subito avere un segno di reazione da parte della squadra, segno di reazione che non c'era tanto stato, però pareggiare tanta roba, pareggiare prima dell'intervallo. Poi nel secondo tempo abbiamo segnato subito, pioggia, abbiamo tenuto, abbiamo lottato, Lasagna quando è entrato al posto di Simeone ci ha creato grosse difficoltà, ha giocato una grande partita Tamez, Faraoni ha provato a buttarla in rissa, non ho capito questa esultanza di Tudor francamente sul gol dell'1-0, per carità io capisco che Verona desideri passare alla storia alle spalle del Milan perché è stimolato da altri, stimolato da un certo tipo di propaganda che aveva bisogno di caricare a pallettoni il Verona, però è il terzo anno di fila che vinciamo al Bentegodi, io so che Verona-Milan è poco conosciuta a livello storico, però è il terzo anno di fila, vi segnalo che nella fatta al Verona è il terzo anno di fila che vinciamo, 1-0 Piontek nel 2019, 2-0 Krunic dall'anno scorso, 3-1 quest'anno, facciamo un gol in più ogni anno, quindi invece che spaventare i tifosi del Milan, riempire di spettri le settimane i tifosi del Milan, provate a parlare della partita la prossima volta, così do uno spunto, ma facciamolo noi di parlare della partita, una partita nella quale Calullo e Tomori sono stati perfetti, Calabria e Teo sulle fasce hanno sofferto, Calabria ha sofferto molto la marcatura di Lazovic e alla fine siamo riusciti a vincere la partita, a centrocampo che si ha lottato, ha tenuto, Tonali ha fatto l'attaccante fino al 2-1, poi è venuto dietro, è chiaro che fare due partite con ruoli diversi nella stessa gara rischia di disorientare un po', però poi Tonali è stato assolutamente prezioso, Leao è stato fantastico, Crunic ha fatto un'ottima partita, Salemekers ha fatto un'ottima partita, sono entrati bene tutti i cambi, Giroud ha sofferto, ha lottato, 3-1 ragazzi. Il terzo gol di Alessandro Florenzi, Alessandro Florenzi è un grande professionista, Alessandro Florenzi è un giocatore di quelli veri, è un'anima dello spogliatoio, quando Florenzi a Torino non c'era contro i Granata ne abbiamo sentito l'assenza della sua radio accesa, Alessandro Florenzi è una radio di concetti positivi, importanti, sempre accesa, giocatore d'esperienza, primo pallone toccato, guardate che tiro che ha messo alla destra di Montipò. Montipò dieci giorni fa, ancora prima di giocare a Cagliari, Montipò stava già parlando di Verona-Milan, attenzione ragazzi, oggi ancora prima di Verona-Milan stavano già caricando nelle interviste quelli dell'Atalanta, quindi ragazzi così, anche questa settimana ci caricheranno l'Atalanta contro, è così ragazzi, siccome il Milan non viene capito, non viene capita l'identità di gioco del Milan, il sistema di gioco del Milan, la caratura del Milan e allora pur di aver ragione ci guffano, ci caricano gli avversari contro, va bene, va bene, noi siamo qui, affrontiamo, resistiamo, ci battiamo, lottiamo, noi siamo qui, caricate anche l'Atalanta e l'Atalanta non ha bisogno di essere caricata, ho visto oggi Spezia-Atalanta, l'Atalanta ha fatto una grande gara, mi è sembrato di vedere in alcuni momenti l'Atalanta è migliore per giocate, per Guizzi, l'Atalanta ha grandi giocatori, con Miners, a Freuler, a Muriel, a tutti quelli che volete voi, insomma, quindi sarà durissima, però facciamo un'altra settimana davanti, un'altra settimana di vita, un'altra settimana davanti, sarà dura per noi con l'Atalanta, sarà dura per l'Inter contro il Cagliari, ormai il Napoli non ci può più raggiungere, io guardo tutto ragazzi, io guardo tutto, abbiamo vinto ancora, è la terza, la quarta, chiedo scusa, vittoria di fila, dopo i due pareggi con Bologna e Torino abbiamo battuto il Genova, abbiamo vinto a Roma con la Lazio, abbiamo vinto in casa con la Fiorentina, abbiamo vinto a Verona, non mi sembra che i portieri ci abbiano fatto regali particolari, poi nell'interpretazione surreale che hanno delle partite magari ci tireranno fuori qualche cosa, non lo so, io dico che il Milan si è guadagnato i suoi gol con delle giocate strepitose di Leao, con la mossa tattica di Pioli che ha messo Tonali, poi il gran tiro di Florenzi, abbiamo vinto noi e adesso domani ci godremo ulteriormente in tutto con i nostri tifosi, la curva, il settore ospiti, i milanisti sono stati meravigliosi al Bente Godi, sono andati al Bente Godi con la testa alta come la squadra, senza avere le farfalle nella pancia per la Fatal Verona, abbiamo ragazzi al Bente Godi, noi abbiamo scritto grandissime pagine di storia, esordito Franco Baresi, abbiamo vinto con Virdis nel Milan di Sacchi, siamo andati verso lo Scudetto, abbiamo vinto nel 2002, ci siamo qualificati per la Champions che abbiamo vinto a Manchester, sono tre anni di fila che vinciamo, la fake Verona, ma non lo dico con, non voglio mancare di rispetto a Verona e al Verona, la fake Verona è smontare storicamente la Fatal Verona che per mancanza di argomenti e per scarsa conoscenza calcistica ci tirano contro, quindi non è nulla contro il Verona ma contro chi evoca gufando la Fatal Verona contro di noi, che non sono gli sportivi veronesi che volevano al loro modo entrare ancora nella storia, anche se nel 90 poi erano retrocessi, nessuno lo ricorda ma io me lo ricordo bene. E niente, noi ci teniamo la nostra vittoria, il Verona ha fatto lo stesso una grande stagione, ha fatto una grande parita questa sera, va bene così, a domani, a domani, a domani.